Diventare un Luganizer è semplice, basta luganizzare qualcosa, qualcuno o sventolare i nostri colori in qualsiasi luogo. Ogni manifestazione pubblica d'amore per Lucky Club Lugano è di fatto un gesto di luganizzazione. Pubblicandolo sui vostri canali social con l'hashtag WeRLVGA o inviandolo via WhatsApp al numero 077-539-6502 non passerà inosservato. Tra tutte le foto e video pubblicati i più originali saranno premiati con una t-shirt, con dei biglietti per la post-season e con la possibilità di impugnare il Luganizzatore. Uno dei quattro sparadischi che animeranno lo show pre-partita nella fase più calda della stagione. Ok bianconeri? Siete pronti? Fateci vedere quanti siete!